La sapienza che vogliamo, che cerchiamo è anche quella mistica, è anche quella che penetra nei misteri, ma è anche quella che insegna i buoni rapporti, il comportamento corretto, la distinzione tra stoltezza e buonsenso, l'uso corretto delle ricchezze, le buone qualità che permettono la vita familiare, il valore della donna, il valore dell'amicizia, ecco tutte queste caratteristiche che stanno a cuore a Ben Sira dicono che la sapienza che viene dall'alto è una sapienza pratica, ecco non è soltanto una teoria, non è soltanto una religione, una visione di Dio, ma è un modo di vivere secondo lo spirito che viene da Dio nella vita ordinaria. Come in altri momenti ribadisco la mia persuasione che la vera proposta pastorale è l'anno liturgico, quindi sono i tempi dell'anno liturgico, per questo proponendo il tema della sapienza non voglio sovrapporre un argomento a quelli che la liturgia propone nel dipanarsi dei diversi tempi liturgici, voglio semplicemente dire un atteggiamento con cui vivere la liturgia e ciò che dalla liturgia viene, quindi per questo ho pensato di scrivere delle lettere per questi tempi liturgici, secondo la scansione proposta dal lezionario ambrosiano e quindi per il mistero dell'incarnazione, scriverò una lettera per sottolineare qualche punto di una visione sapienziale della vita che mi sembra coerente con il tempo d'Avvento e il tempo di Natale e lo stesso sarà per il mistero della Pasqua che comprende il tempo della Quaresima e il tempo pasquale e lo stesso sarà per il mistero di Pentecoste che comprende il tempo dalla Domenica di Pentecoste alla prima di Avvento. Grazie a tutti.